bella ragazzuoli oggi che pressiamo pressiamo un cucchiaino lo mettiamo sotto 5 tonnellate vediamo un po vediamo un po allora innanzitutto chiudiamo la valvoletta del pistone e possiamo andare a tirare su lo metto così per sbiego vediamo se si vede è no troppo sono uscito come posso fare due pressature questa è la prima addrizziamolo ok 5 tonnellate qui glielo abbiamo dato adesso riscarichiamo ole tiriamo giù ancora di più e un'ultima pressata gliela diamo stavolta per così state sempre attenti alle dita prima di stringere tutto levate sempre le dita se avete una pressa ok premiamo 5 tonnellate vedete la struttura come si deforma quando si scarica il peso tiriamo giù ecco il cucchiaino che figata piatto piatto che figata ragazzoni questo era il cucchiaino ci vediamo al prossimo video ragazzi bella grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.